Permettetemi perché è la prima volta che torno in Lombardia dopo aver contratto io stesso il Covid a Milano. L'ultima volta che sono venuto in Lombardia a Milano voi ve la ricordate, anzi con tutte le polemiche su quel famoso aperitivo. Ma anche su questo io penso che bisogna fare giustizia e sgomberare il campo da un equivoco e da tante bugie che sono state dette. Anche quel giorno io sono venuto per portare solidarietà a una città come Milano che era una città ferita ma soprattutto rispettando le regole che la regione Lombardia dava in quel periodo. Mai mi sarei sognato da leader politico di dire non rispettate le regole perché sono sbagliate. Come fa la destra spesso in questo paese? Eccola la differenza tra noi e vuoi. Dallo YouSoli tornerà in agenda? Lo YouSoli, ma tornerà in agenda? Io mi auguro di sì, se votate Partito Democratico sì. Però deve convincere i cinque stessi. Esatto, bravo. Lo vedi che lo fai? Guarda, ho preso il 30. E poi mi raccomando, telefonate a tutti. Lei sta andando ancora da tutti, è il nostro record, mi interessa.